Ciao a tutti ragazzi, siamo gli Out4Tube, qui Saxi, insieme a Imma. Non so se si vedrà qualche cosa in questo video, ma vabbè. Insieme anche alla mia nuova borsa dell'acqua calda. Allora, vi faccio questo video qua giusto per dirvi delle piccole cose. Uno, lo so, lo so che non stiamo riuscendo più a caricare il video, ma perché ci sono stati alcuni piccoli problemi... Eh sì, lo so, lo so, lo so, lo so, lo so, lo so, un attimo, un attimo, un attimo. Lo so benissimo che direte tranquillamente, eh, ma sempre a voi capitano i problemi? Eh sì, certo, a tutti capitano i problemi, a noi di più, perché siamo sfigati. Che cosa è successo intanto? E vi volevo quindi tutto annunciare che, naturalmente, visto che si stanno avvicinando sempre di più le vacanze natalizie, ah, le vacanze natalizie, ci saranno tanti video, forse ogni giorno pure, dai. Non so, sincero, non so. Perché, dalla sfiga che ci abbiamo, eh, sapete. Comunque, che cos'altro posso dirvi? Eh, è sicuro che per le vacanze natalizie porteremo più video. Eh, non sto dicendo più video al giorno, forse sì, forse no. Si vedrà poi. Allo stesso tempo vi vorrei comunque far vedere che non siamo morti, anzi, io lo dico sempre, noi non moriamo mai, perché la sfiga vuole che tutti quelli intorno a noi ci muoiono e noi siamo gli unici coglioni che dobbiamo rimanere. E non faremo mai un, e non riusciremo mai a fare un cazzo perché teniamo una sfiga di quelle colossali. tra video che si cancellano e cose varie, cose varie. Eh, che dobbiamo lì? Che dobbiamo far? Cioè, neanche il mio... neanche questo che ho scritto buona fortuna. Non si riesce a leggere, non lo so, che adesso sì, buona fortuna. Tanta fortuna non me la porta il mio piccolo drago in vetro. Ah, draghi. Io impazzisco per i draghi. C'era giusto anche per dirvi qualche altra piccola novità, ovvero... ho aperto da... ieri notte? Sì, ieri notte il canale su... cioè ho aperto il mio profilo su Deviantarte, ecco non mi venivano le parole. Non ho ancora caricato niente, ma tranquillo, poi posterò qualche disegno. Intanto, in classe la maggior parte delle volte faccio solo quello, disegnare, quindi basta soltanto prendere il quaderno e scannerizzarlo sulla... sulla mia fantastica, fantasticosa, stampante... ciao Yuka. Eh, sì, vi ho già spoilerato tanto mostrandovi Yuka di Corpse Party. Eh, perché prima o poi, ve lo giuro, porterò anche Corpse Party. Tutto, tutto quanto Corpse Party, ve lo giuro. Eh, quindi se volete fateci un salto, poi vi lascerò anche il link in descrizione. Anche se, come vi ho detto, adesso non si troverà un cazzo. Dopo è sicuro che si troverà qualche cosina in più su Deviantarte. Eh, poi cos'altro? Eh... Ah sì, sì, giusto. Eh, una piccola cosa che mi ha fatto venire in mente un amico mio. E... Di cui naturalmente lo ringrazio. Ciao Angersco! Naturalmente credo che l'abbiate visto in un video che poi, purtroppo, è stato cancellato. E... Non neanche a chi cacchio è stato. E... Lui mi aveva detto, ma perché non fate qualcosa, tu e gli Out4Tube, E come fanno alcuni youtuber, ovvero tipo di mettere un giorno fisso e lì postare un video. E allora ho detto, hm, perché no? Allora ho pensato. E... È una cosa ancora non certa, perché mi devo ancora sentire con tutti gli altri degli Out4Tube, Però intanto, eh... Ve la dico anche a voi e anche agli altri member dell'Out4Tube che sicuramente vedono nel video, o forse no, o forse sì, o chi lo sa. Ehm... Il mio amico Ingesco mi aveva detto questa cosa qui e io ho pensato, hm, Visto che il mercoledì è, diciamo, forse l'unico giorno in cui riusciamo a vederci perché per fare un video abbastanza insieme, anche se si trovano ogni volta difficoltà su difficoltà, perché allora non fare il video il mercoledì e poi riuscire, visto che sennò poi è troppo faticoso pure per noi, e postare il video il venerdì? Che ne dite voi? Io penso che sia un'ottima idea quella lì di mettere ormai i video ogni venerdì. Poi, non so, poi magari ci amplieremo e quando troveremo tempo, troppo tempo, tanto tempo, nel caricarne un video a giorno, oppure di caricare più video in un giorno, non so bene. Sì, lo so, sto parlando come un cretino, ma perché le cose mi stanno venendo in mente adesso. Comunque vi assicuro che ci saranno speciali di Natale, perché ogni volta in famiglia ci si riunisce tutti quanti, quindi anche noi degli Art4Tube. E che dire, se il video vi piaciuto mettete un bel pollicione in su, togliete le mani dalla vostra borsa all'acqua calda giusto per metterlo, io così. commentate, condividete, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto, perché per favore, soprattutto per i commenti, perché ci dispiace sapere che nessuno commenta, perché, sì, va bene, il pollicione in su ci sta, le stesse iscritte va bene, però qualche commentino andrebbe pure comodo, perché è tipo, questo lo scrivete, il video mi piace, il video non mi piace, è al minuto 69, tipo. Non pensate al male, non pensate al male. Scrivete qualsiasi cazzata, tipo, oggi ho mangiato carne, oppure ieri ho fatto la cacca. Scrivete qualsiasi cosa che vi viene in mente sotto i commenti, tanto saremo noi quelli a leggerli e magari ci faremo pure qualche risata. Quindi, dagli Art4Tube è tutto, yao! Che bello il mio trago, che bello il mio trago, che bello il mio trago.